Buongiorno Orchidea di Murosola, Orchidea di Medicina per l'Anima. Vi ricordo sempre i nuovissimi libri Orchidea e storie di personaggi in quarta edizione, 562 pagine, l'Orchidea di Medicina per l'Anima, che è una sintesi di quella là, 93 pagine. Oggi voglio parlarvi delle vanda, delle vanda che abbiamo qui da vendere ancora, e soprattutto di Thomas Love, quello che ha scoperto la vanda tricola e la vanda cerulia. Questi libri che vedete qua derivano tutti dalla vanda cerulia, e questo che deriva dalla vanda sanderiana. La vanda cerulia è la mamma di tutte le grandi ibridi a fiore blu o fiore azzurro, celeste, mentre la vanda sanderiana ha generalmente questi colori. La parte sotto è color caffè latte e sopra rosa. Se la storia della scoperta della vanda sanderiana, abbiamo già fatto un video, sarebbero da fare dei film perché è veramente una roba, altro che le avventure di Sandokan. Va bene, Thomas Love è nato in Cordovaia e all'età di 20 anni è andato a lavorare alla ditta Vitch, che è uno dei più grandi vivai di floricoltura inglese del 1800, dove già lavorava suo fratello Williams. Nel 1843 i due fratelli Love sono stati mandati Williams in America tropicale e invece Thomas in Estremo Oriente, e lì inizialmente l'isola di Java, poi ha girato tutto l'Estremo Oriente fino alle Filippine. Ha scoperto un sacco di piante Thomas Love, tante tante piante, tante orchidee, tra cui la più famosa, sicuramente la vanda cerulia, che è la mamma appunto di tutte le grandi vanda blu. Come vi ho già detto l'altra volta, le vanda si tengono con moltissima luce, sono tra le piante più esigenti di luce, soprattutto quelle a foglia cilindrica, queste sono quelle a foglia di cinghia, si chiamano proprio così, a foglia di cinghia, mentre invece quelle a foglia cilindrica si chiamano terete, derivano dalla vanda teres, famosissima anche quella. Questa qui vogliono intorno a 40.000 lux, quelle lette rete, anche molto di più, va bene pieno sole anche il mezzo di luglio. Ecco una cosa che vedo adesso, vedete queste goccire qua, queste goccire sui boccioli, queste sono goccire di zucchero, e lettere extraplorale, che le piante producono quando stanno bene, quando sono in salute fanno questa lettere extraplorale, o fanno le palenopsie, o fanno un po' tutte le orchidee, tanti si preoccupano di queste cose qui, no, è un buon segno, quando fanno così è indice di buona salute. Per tenere bene la vanda ci vuole tanta tanta luce, se non avete tanta luce lasciate perdere, perché con tanta luce va tutto bene, con poca luce è un casino. Ecco, quando cominciano a fare le radici con la punta verde, vedete così, cominciano a essere attive, perché d'estate è una punta verde molto più lunga, è una punta verde di almeno 3 centimetri. Poi in autunno, quando le giornate si accorcero, pian piano la punta verde si riduce, si diventa un puntino. Ecco, così siano fermi. Quando cominciano a fare la punta verde si muovono, e quando cominciano a fare la punta verde bisogna bagnare bene tutte le mattine, abbondantemente. Si può mangiare anche per immersione, ma meglio ancora con la doccia, perché per immersione c'è il problema, che se c'è una pianta che ha un problema, magari io sto bene, però magari c'è qualcosa addosso che si manifesterà fra un po', se c'è una pianta che ha questi problemi qui, se mettete quelle che verranno dopo di lei in quell'acqua lì, apprenderanno tutti quel problema. Per cui è un modo per propagare eventuali malattie. Allora, tantissima luce, temperato, l'ideale è stare intorno ai 15, massimo 20 gradi di notte, e bagnare tanto d'estate e concimare anche tanto. Durante l'estate, quando hanno appunto bella verde che viaggiano, bisogna, dopo averle bagnate, cioè, prima le bagnate bene, dopo averle bagnate, gli prestate spruzzare sui concimi, anche a dosi abbastanza importanti, perché sono molto avidi le vanda. Ecco, cos'è che volevo dire? Che mi era venuto in mente un'altra cosa? Ah, si devono tenere appese. Loro devono stare con le radici aeree. Se volete mettere radici nel vaso, se volete mettere, che è una cosa abbastanza complicata, piegare tutte queste radici così per mettere in un vaso, le radici nel vaso marciranno e fa un sacco di radici fuori, perché lei non è addomesticabile, vuole stare con le radici all'aria. E poi sono molto belle, perché è bello tutto insieme, la pianta, i fiori e le radici. È una pianta che i fiori durano anche parecchio, sono rifioretti perché abbiano molta luce, se non hanno molta luce non vedrete più i fiori e oltretutto resteranno deboli, e si ammalleranno facilmente. Le vanda per cui tanta tanta luce e quando vedete le vanda pensate a Thomas Love, che è quello che l'ha scoperto, è scoperto questa e tante altre specie di orchidee. Ok?